Teresanna Pugliese racconta della visita alla tomba della madre di Francesco Monte Uomini e donne, Teresanna Pugliese racconta alcuni dettagli inediti della storia damore con Francesco Monte. Teresanna di Uomini e donne continua a raccontare della sua storia damore con Francesco Monte in un memoriale sul settimanale Di Più. Dopo aver raccontato del primo incontro alla corte di Maria De Filippi, nellultimo numero inedicola la napoletana ha ricordato i primi mesi vissuti appassionatamente con il Tarantino. Un amore grande, forte e intenso, tanto che dopo la scelta Francesco ha fatto conoscere Teresanna a tutta la sua famiglia. . Non solo, l'ha portata al cimitero a far visita alla tomba della madre, scomparsa prematuramente. . Una visita toccante per la pugliese, che ricorda quel momento con tanta emozione. . Una volta che si spensero le telecamere decidemmo subito di fare la conoscenza delle rispettive famiglie. . Dapprima trascorremmo un periodo a Napoli, con mia madre e i miei fratelli ha fatto sapere Teresanna. . Che a sua volta ha conosciuto i familiari di Monte. . Fu io ad andare in Puglia per incontrare suo padre Angelo, che stava a Taranto, e il resto della sua famiglia, che si trova a Gioia del Colle. . Andammo anche sulla tomba della mamma, fu per me molto emozionante ha puntualizzato l'ex tronista. . Teresanna ha confidato che si è subito trovata bene con la famiglia di Monte. . Con Francesco ha invece iniziato velocemente una convivenza. . I primi mesi furono straordinari ha sottolineato la giovane. Dopo quei primi mesi insieme qualcosa è cominciato a scricchiolare tra Francesco Monte e Teresanna Pugliese. . La ragazza ha svelato che i due avevano cominciato ad avere degli obiettivi diversi. . Teresanna e Francesco, perché è finita dopo Uomini e donne. . Mentre lei voleva dedicarsi soprattutto a lui, Monte ha cominciato a mettere il suo lavoro al primo posto. . . Era molto richiesto dai locali e anche io lo ero. . Ma mentre io ero disposta a dire di no a qualche serata, lui non se la sentiva perché la sua realtà lo spingeva a non perdere neanche un'occasione ha precisato la pugliese. . Che però ammette, con il senno di poi mi rendo conto che forse aveva ragione lui. . . . . . .